Questa volta niente ciao pagliacci ma ciao amici, Conte verrà ufficializzato a brevissimo e appena avremo la data faremo il ve l'avevo detto party. Io credo che lo farò con voi, poi organizzo tutto, credo di farlo in zona monza, così è raggiungibile anche magari da chi arriva magari da Bergamo, da Brescia eccetera. Prendiamo un bel posto ignorante, facciamo il ve l'avevo detto party in onore del nuovo mister e facciamo un bel po' di casino, una cena estiva, ci salutiamo, ci conosciamo, io ho già invitato un po' di gente, anche un po' di personaggi molesti che conoscete tipo il mengone che ospito sul canale, vediamo un po' quanti siamo e in base a quello facciamo una mega festa oppure la facciamo qua in zona città studi Lambrate, sì ma una roba così, una cena giustamente ignorante con i cori, con le bandiere, accendiamo anche i fumogeni e poi niente ci saranno delle sorprese che sto preparando adesso sto lavorando come una iena e quindi non ho tempo neanche di godermi questo momento mitico però facciamo una festa della Madonna, ci divertiamo un po' e facciamo i cori per l'Inter, per il nuovo mister speriamo in una bella campagna acquisti, sinceramente non vi parlo di Inter Empoli perché non me ne frega un cazzo sono delle merde, mi hanno stufato, avevo i biglietti li ho regalati, non c'entra un cazzo col sostenere o non sostenere la squadra io sono già all'anno prossimo, non so come dirvi, sono già... scusate gli uccellini, sono già tarato sull'anno prossimo non so come dirvi, mi spiacerebbe perché Conte perde, l'Inter perde veramente un botto di soldi da reinvestire sulla campagna mentre col discorso Lukaku Icardi farà plus valenze come dicono le calcolatrici e mentre si lavora ancora a un esterno, mentre Geco e Barella arrivano ci saranno sicuramente altri colpi ovviamente anche in uscita ci saranno un po' del budget in più, però il problema è sì che se non si va in Coppa se non si va in Coppa, a me non frega un cazzo anche la canzoncina della Champions, la Champions, la Champions di giocare non per vincere ma per parteciparvi ci degnamente e quindi mi scocerebbe per il mister, mi scocerebbe veramente per il mister e per l'Inter stessa che avrebbe meno soldi e perché sarebbe comunque un disastro capisco il comunicato anche della curva perché in effetti se non vai in Champions è fallimentare però voglio dire è fallimentare comunque se arrivati fino a qua così io non sono d'accordo sul fatto che questa squadra dovesse centrare questo obiettivo quest'anno la sticella andava alzata, non è stata alzata quindi ripeto non lo so, mi sento strano, la verità è che mi sembra di essere veramente ma che belle con le margheritine, mi sembra veramente di essere... sono a Milano, ma è un residence molto carino dove vengo sempre quando lavoro a Milano fisso e torno nella mia città e c'è anche la panchina, la panchina di Conte praticamente... adesso cerco di non sporcarmi la maglietta con la merda degli uccelli anche se col pappagallo sono abituato, a parte che questa maglietta ce l'avrò su da 6 giorni me la devono staccare con il flessibile che mi vesto sempre uguale come paperino non c'è neanche il tempo di cambiarmi allora, cosa succede? no, che non lo so questa squadra mi ha abbuffato i coglioni, non ho voglia, avevo i biglietti sono andato con la Roma, sono andato col Chievo, sono andato quasi sempre questi biglietti qua... no, a parte che poi io lavorando col discorso campagna elettorale cioè io dopo sono 40 giorni che dormo, non lo so, 3 ore e vivo col telefono, con i caricatori in mano, cioè non... lo so che Asso di Roma mi dà del fallito, ma io invece ho quasi 70-80 persone che lavorano con me e per la mia agenzia e vi assicuro che è anche una responsabilità e i clienti che comunque così poi devono pagare, devono essere soddisfatti e quando arriva poi il giorno delle elezioni, cioè... ormai questo lavoro lo faccio da... allora, in questo modo come agenzia che fa tutto, dal sondaggio... perché mi avete chiesto cosa fai? ho un'agenzia di comunicazione politica specializzata nel periodo elettorale perché la comunicazione politica è una cosa, la comunicazione elettorale ha altre regole ed è diversa dalla comunicazione quella che fai per un'azienda, che sia piccola o grande, eccetera quindi un bel cinema e... anzi sto aspettando un pirla che deve venire a caricare dei manifesti e quindi niente, dicevo che domenica, sabato e domenica dormo 48 ore quindi mi sveglierò giusto per vedere la partita in tv, rilassato poi c'è chi durante la campagna elettorale gli viene la panza io invece tendo a dimagrire, divento magro e cazzo con la pancia il contrario di uno che è in forma è una vita di merda però, vabbè, comunque non è tutto l'anno così e quindi, ripeto, domenica non avrei avuto neanche la testa e le gambe cioè, la prima cosa che faccio, chiaramente, umanamente è a parte andare da mia figlia al lago e poi andare, come ho detto, visto che ho fatto l'annuncio che mi hanno detto che ho le palle secche allora, visto che... tra l'altro era successo quel weekend lì che ho saputo che se tutto va bene, come mi auguro, speriamo diventerò un padre di nuovo a 48... sì, a 48 anni sono a 47, dovrebbe nascere il 26 di dicembre quindi, ovviamente, andrò dalla mia fidanzatina a starle un po' vicino che le donne, quando sono incinte, cazzo, diventano... diventano le madonne col bambino ecco, questo è un ragazzo diversamente virile e diversamente... proprio diversamente intelligente che... vieni Ale ecco... questo è un... non ve lo presento perché... sto facendo un video, pagliaccio sto facendo un video, cazzo fumi il pomeriggio che ti fa male? ma vi faccio vedere uno che ha la metà dei miei animi ma sembra che ne abbia il doppio saluto ai miei fan ciao ragazzi, non fate come me grazie in realtà lui è un architetto della Madonna ma è un ragazzo umile, anzi umido che aspira fiducia, come diceva Frassica e quindi lavoriamo insieme adesso lo porto anche a cena qua alla Caritas che due panini gli tirano basta, insomma e quindi no, dicevo, tornando in Terempoli no, non vado allo stadio, ho regalato i biglietti e niente, non so, ho la testa l'anno prossimo e sì, è chiaro che mi interessa andare in Terempoli poi alla fine uno dice così poi domenica, cazzo ti ferò come un caimano però sono più concentrato sul dopo credo che annunceranno Godin poi rinnovo di ausilio poi Conte, più o meno e quindi basta, insomma, dai faccio due chiacchiere con questo con questo ma neanche così un personaggio perché butti la cenela nel prato? sono le margherite? ma che biodegradabile! niente quindi persino però faremo esatto la cena vi dico, se in zona qui quindi Lambrate quindi Città Studio Ortica, una zona così o se la facciamo nella mia zona quindi più verso Fiera, San Siro oppure se Monza però facciamo una super cena ci vorrà poi vi raccolgo sì vi raccolgo sto straparlando anche su Strac raccolgo le iscrizioni facciamo una cosa su iscrizioni cioè fatta bene con la prenotazione con i bandieroni i fumogi i cori l'ignoranza il mengone spero Manuel Bonaduce e anche che ormai è anche pianista e fa anche le canzoni e no le fighe no perché io ormai ho peso il cazzo al chiodo quindi al massimo mi arriva la cena in faccia cazzo che coglione e mi cosa vi stavo dicendo? sì no niente sì le fighe no non è che posso sempre portarle io io portatele voi io le guardo le guardo e le commento ma anzi non le guardo neanche perché ormai ormai basta è finita è finito tutto benvenuto Mr. Conte un saluto a voi vi abbraccio vado a lavorare e dai facciamo sta cena che ci divertiamo no ditemi un po' la zona stiamo in zona qua cioè nel raggio così tra Milano e Monza aspetta mi si sta scaricando Milano Monza e Labrianza va bene ok ciao amici ciao